E voglio andare avanti in questo video perché dopo lo sfogo è giusto anche parlarne in maniera fresca, cioè in maniera fredda. Ma perché rimangare quello schifo? Perché? Perché ti brucia ancora, perché senza quello schifo, quello scudetto di cartone, non sarebbe mai nata né il triplete né altro schifo, niente. Ma lasciamo stare, perché quelle vittorie comunque sono state fatte. Poi la Champions della vergogna 2010 ce la ricordiamo ancora e speriamo di non doverla rivivere. Ma a parte questo, voi da noi, da noi milanisti, e noi a volte lo siamo, almeno ci proviamo, o almeno credo, pretendete rispetto, pretendete che i nostri VIP non possono fare dichiarazioni, non possono fare insinuazioni. Poi Bonolis, Materazzi, Berti non ne parliamo nemmeno, di Berti che è un vomitaio con Dimo. Perché loro possono i miei no? Cioè, qual è il criterio su cui si basa? La risottina è linea tra sfotto e schifo. Perché se no, c'è qualcosa che non mi torna. E poi lo fanno i miei. Eh, voi fate queste dichiarazioni vergognose, sopra il mondo inter, si vergogna per non parlare dell'altro mondo bianconero. Lo fanno loro, è tutto normale, è uno sfotto, è una battuta, è uno schiccio. Cioè, perché poi, come dico sempre io, ciò che fai ricevi, perché io poi lo dico sempre, ciò che fai ricevi, e devi stare pure zitto se lo ricevi, che tu lo fai per primo, e io non è che sto coglione, che anzi, a volte la mia società, ribadisco, io a volte scrivo su Instagram, perché loro non dicono una cazzo di parola, visto che qua si continua a infangare in Milano ogni tanto anno, e non si accetta. Si cercava di più, di più, la più rogna di Elio, di Jerry Cardinale, per dire che era un'altra cessione farlocca, per dire che erano dei mafiosi. Quando adesso l'Inder potrebbe essere in vendita, e non ne parla nessuno che è pieno ai debiti, ma queste cose qua, eh, fanno parte del sistema. È un sistema che omette, che protegge, che grazie a Dio qualcosa adesso con l'anno di crisi bianco-nero, sta iniziando a essere scoperchiato, e ribadisco i complimenti da Agnelli, che vuole prendere Conte, complimenti, vorrebbe, vorrebbe, possiamo incondizionare, prendere Conte per continuare a indebitarsi, continuare a fare schifo a livello di gioco, per vincere in Italia. Quanto basterebbe prendere Montero, far giocare i giovani, e vince facile, come facciamo noi, ma questi sono fatti loro, ma io la cosa più mi disgusta, e continuo a ripeterlo, eh, è rivangare le vecchie. Perché rivanghi le vecchie? Perché sai che fanno male quelle vecchie? Perché poi tu vuoi fare il mondo inter, la parte dei puritani, eh, quando nell'armadio c'è tanta di quella monnezza, eh, che ancora andrebbe, andresti condannato per quella monnezza, ancora la dovresti pagare, e non l'hai mai pagata, non l'hai mai pagata, perché è arrivata la prescrizione a salvarti il culo da quelle telefonate che faceva il presidente tuo, e le faceva perché ci stanno gli audio, eh, se andate su internet ci stanno, ci stanno su YouTube, le chiacchierate che facchetti si faceva, ma lasciamo stare chi non c'è più, ma chi non c'è più non è pulito come un bambino, così come Mino Raiola, eh, eh, che non è che se trapassi lo schifo che fai non rimane, eh, ma lasciamo stare questa cosa, ma ribaesco il concetto per cui voglio fare questa seconda parte, perché loro possono vomitare schifo, fare tutto quello che vogliono contro di me, e poi moglie a Dio lo fanno i miei VIP, i miei milanisti, quando lo fa Salvini, porca miseria, mamma mia, invece loro sono battute, sono sfottò, Bonolis può dire ogni stronzata possibile e immaginabile su questo faccio della terra, cioè, e poi meraviglio che anche l'ex presidente di incendiato, di incendio anche lui mettendoci nel suo, cioè perché nessuno li bacchetta? Perché a me ogni volta fanno come le maestrine ai tempi degli anni 50 e mi danno le bacchette sulle mani, a loro non gli dicono mai niente, cioè, non è brutto fare la spia, perché la spia è brutto farla, però ogni tanto ti girano un po' i tre quarti di gambasisi a essere l'unico scemo del villaggio, a non poter mai fiatare, a non poter mai dire una parola, a non poter mai controbattere, che subito, fai il pignolo, fai così, cioè, tu che cazzo fai, non ho capito, cioè, questa è la cosa più vergognosa, poi, ormai sono passati anni, però ribadisco le vecchie fanno male come le nuove, cioè, non c'è differenza tra lo schifo di Bertini e lo schifo di Valeri che vediamo ogni domenica, cioè, non è che la solfa da vent'anni a questa parte sia cambiata, anzi, 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 cioè, quindi lasciamo stare, cioè, cerchiamo ormai, quelle cose ormai sono andate, sono successe, ma non ribanchiamole, perché fanno male, non fanno male, poi ribadisco la memoria buona come noi, come noi milanisti e come altri che le hanno subite, non le dimenticano, non le dimenticano, chi le ha ricevute, chi ne ha goduto, eh, se ne dimentica, le festeggia, le celebra, ha schifo, eh, però fanno male, fanno male, come quando Don Camino disse, chi le mazzate le dà, se ne dimentica, chi le riceve, se ne ricorda, quando fece Gastone, Gastone Moschino, l'ultimo Don Camino, le mazzate, chi non le dà, chi le dà, le dimentica, chi le prende, se ne ricorda per sempre, quindi quella monnezza, è meglio, non dico, è meglio parlarne il meno possibile, perché poi lo fanno loro, eh, ma è sfottò, quando dicono ogni accusa possibile e immaginabile sul milano, lo fanno i miei, buono, ma Gerry Scotti, Salvini, Massimo Boldi, Diego Batanduono, apri di cielo, apri di cielo, eh, allora se lo fanno loro, lo posso fare anch'io, eh, cioè, qua è il problema, cioè, è quello che non mi spiego, poi ho detto, quelle dicazioni fanno male, fanno male, perché quella roba là, ha veramente messo a dura prova la passione calcistica degli italiani, e neanche un mondiale, vinto, come l'abbiamo vinto per una testata che ha ricevuto Materazzi, che ha dato della poco di buono alla sorella di Zidane, eh, perché poi anche quello che dice di stronzate, eh, cioè, è meglio lasciare il mondo com'è, ma almeno stiamoci zitti, almeno stiamoci zitti, almeno stiamoci zitti, perché fa veramente male, riferisco, la monnezza di prima, fa male quando quella attuale, ciao a tutti.